Per senso del dovere, spirito di abnegazione e fame di giustizia, il guerriero dragone è tornato. Non c'è il fatto a tutti gli occhi! Pace interiore. Della interiore di cosa? Prendetelo! Potrebbe essere la fine del Kung Fu. Kung Fu Panda 2. Sabato alle 21.20. Che ricolo! Su Italia 1. Ma come può il Kung Fu fermare una cosa che ferma il Kung Fu?